Questo è per noi, ritengo, un grande risultato, coinvolgere tutti questi giovani che vogliono entrare nel mercato del lavoro e vogliono migliorare le loro competenze e le loro professionalità. Il Comune che si fa promotore di accedere anche a Villa Bate ai fondi del Fondo Sociale europeo è sicuramente un motivo di orgoglio per tutti noi di Villa Bate e il protocollo di intesa stipulato con l'ente Enaip Palermo è sicuramente qualcosa di importante che può veramente rimanere nell'esperienza formativa di tutti i giovani del nostro paese. Sono delle opportunità che noi stiamo creando, questa collaborazione comune e enti per i costi di formazione dei residenti a Villa Bate sicuramente creeranno forze lavoro per il nostro paese e in un momento di crisi che investe il mondo, l'Europa, l'Italia, la regione e quindi anche il nostro paese queste sono opportunità che bisogna accogliere per dare la possibilità ai nostri concittadini in futuro di poter accedere nel mondo del lavoro. È fondamentale oggi che i giovani abbiano delle competenze e delle professionalità sicuramente per loro diventa una marcia in più per potersi introdurre all'interno del mondo del lavoro noi siamo convinti infatti che attraverso una buona formazione e attraverso dei corsi che possano dare e trasmettere queste competenze teorico-pratiche loro possano così riuscire a non soltanto essere artefici del proprio futuro ma contribuire per lo sviluppo di Villa Bate. Questa è la nostra convinzione ed è per questo che noi da diversi anni siamo presenti a Villa Bate con corsi di formazione che sono in diversi ambiti infatti i nostri corsi possono formare sia per attività artigianali, attività informatiche e anche a sociali. Oggi i giovani di Villa Bate hanno risposto positivamente al nostro invito e sono veramente contento della partecipazione di questi ragazzi speriamo di dare un ottimo contributo affinché si impegnino in questi corsi per avere un futuro domani lavorativo.